Ha assunto proporzioni colossali l'inchiesta sul supermarket della fattura falsa, denominata tailor-made, al punto da dover prenotare l'aula della Corte d'Assise di Padova in vista del giorno dell'udienza preliminare. È ormai questione di settimane per la richiesta di rinvio a giudizio. Sono oltre 130 le persone a cui il sostituto procuratore Emma Ferrero, la stessa del caso Onichini, ha fatto notificare l'avviso di conclusione e indagini con qualcosa come 318 capi di imputazione. Associazione per delinquere a carattere transnazionale finalizzata al riciclaggio, all'autoriciclaggio, all'omessa dichiarazione dei redditi e all'emissione di fatture false collegate ad operazioni inesistenti. Queste le accuse che vengono contestate a vario titolo a 24 soggetti, tutti italiani o stranieri residenti in Veneto, nelle province di Padova e Venezia, che avrebbero ricoperto ruoli ben precisi nell'organizzazione criminale. Il reato associativo è contestato pure ai legali rappresentanti delle società, spesso semplici prestanome o nulla facenti, che la banda utilizzava per le frodi fiscali.